Una certa squaiata feroce con cui molti ambienti filogovernativi hanno accolto la notizia del ricovero San Raffaele del dottor Briatore, dopo essere stato probabilmente contagiato dal Covid e aver sviluppato una polmonica, la dico in lunga di qual è il vero senso della partita in gioco. Già il termine negazionista è offensivo. Io credo di essere stato forse il primo che ha gridato l'allarme per questo virus e credo che oggi si devono fare alcune affermazioni per riaffermare elementi di chiarezza. Il problema non è mascherine sì o mascherine no, o distanziamento sociale sì o distanziamento sociale no, perché se vi analizzate bene tutti i modi e le forme con cui anche in questo maledetto agosto tutti sembrano essere contagiati, questo elemento ha un fattore comune, ambienti senza ricambio d'aria naturale e ambienti con aria condizionata. Nessuno vuole guardare nei filtri dei treni, degli aerei, degli aeroporti, dei supermercati, delle discoteche, degli alberghi, degli hotel, nessuno vuole capire che soltanto in questi ambienti dove l'aria non ha circolato e dove quest'inverno forse circolerà ancora meno sono il vero pericolo. Però questo nessuno si può dire, questo nessuno lo può dire fino in fondo perché ci sono troppi interessi in gioco. Nei supermercati non possono essere chiusi, neanche mai gli ospedali, nelle farmacie, negli studi medici allora bisognerebbe correre misure serie, avere, cioè avere forme di sterilizzazione dell'aria condizionata, avere misure di sicurezza, se no allora è meglio un lockdown generalizzato. Ritorniamo alla preistoria, torniamo a un tempo fuori da ogni tempo, non accettiamo l'idea che c'è il rischio di ammalarsi come è stato sempre per questi virosi e invece continuiamo a buttare tutto in politica o peggio ancora in mal gusto, in cattivo gusto e in feroce come nel caso di Briatore. Però nessuno vuole dire la vera verità e questo è molto triste e le menzogne sono insopportabili. Buona giornata per fatti risfatti.